Un momento importante, un impegno mantenuto quello della Zolina? Sì, era programmata per lo scorso anno questa intitolazione dell'istituto, poi ovviamente per motivi legati all'emergenza sanitaria non si è potuta fare, allora ho voluto ricontattare lei in quanto ex ministra nel periodo più difficile della nostra storia, insomma, legata a questa emergenza sanitaria. Una storia importante legata a questa inaugurazione, la vogliamo ricordare, una donna importante? Una donna importante, Cesira Fiori, che innanzitutto è stata una insegnante di scuola primaria, anche scrittrice di diversi libri sia per la scuola, ma anche nel periodo in cui poi è stata esiliata per ben quattro anni a San Demetrio Nevestini dal 39 al 44, quindi una donna veramente che meritava questa intitolazione. Oggi siamo in questo momento a San Panfilo d'Ocre, poi si proseguirà a San Demetrio per una giornata molto ricca, questo è veramente un gioiellino, sono lattanzi, è un mondo a parte. Questa è una scuola che è stata costruita dopo il SISBA del 2009, è stata donata dalla Carita, si ospita sia la scuola primaria che la scuola dell'infanzia, ci sono quattro classi di scuola primaria, quindi tre classi e una pluriclasse e una sezione di scuola dell'infanzia, quindi è immersa nel verde in un panorama meraviglioso. Fa tutto sperare di poter ripartire in normalità dopo questo anno difficile per questi bambini? Stiamo provando, stiamo provando con i bambini che li abbiamo rimessi in moto, loro hanno tanta voglia di fare, hanno voglia di continuare a sperimentare, a fare le attività che si fanno normalmente nelle nostre scuole, di ampliamento dell'offerta formativa, oltre che l'insegnamento curriculare che è fondamentale.